Oggi lanciamo il nuovo servizio di car sharing e finalmente a Catania i cittadini potranno ritornare a utilizzare questo servizio di mobilità alternativa, quindi l'auto condivisa, è un servizio molto semplice da utilizzare mediante l'apposita app dedicata a Migo, avrà un respiro anche regionale, quindi si potrà andare non solo all'interno della città di Catania ma anche in tutte le altre principali città della Sicilia ed è un servizio che si integra rispetto a tutti gli altri servizi di mobilità dell'azienda, quindi ai nostri capilini si potrà cambiare tra mezzo pubblico, autobus e auto condivisa e contiamo di incrementare i servizi di mobilità anche in un'introduzione di nuovi servizi quali il bike sharing. Quindi l'azienda dei trasporti catanesi si porta al passo dei tempi e cerca di dare un servizio adeguato agli standard di tutte le città metropolitane e tachese.